Quando si acquista una casa, bisogna fare attenzione che la stessa sia conforme sotto il profilo urbanistico e sotto il profilo catastale. Ma che significa? Beh, innanzitutto direi che le case che non hanno queste conformità urbanistiche e catastali non si possono acquistare. O meglio, non si potrebbero acquistare. Eh già, perché tutti i giorni vediamo case non conformi messe in vendita sul mercato. Quasi tutti i giorni mi vede arrivare vostri messaggi e mi dite che mi siete accorti di aver acquistato una casa non conforme. Le case, prima di essere costruite o anche prima di essere ristrutturate, prima ancora di muovere un solo mattone, devono essere approvate dagli uffici urbanistici del comune di competenza. Opere che devono essere realizzate in conformità al progetto approvato. Una volta che le opere di costruzione o di ristrutturazione sono terminate, il direttore dei lavori comunica al comune la fine dei lavori. Il direttore dei lavori, unitamente alla proprietà, hanno l'obbligo di denunciare al catasto, all'agenzia delle entrate, l'accatastamento delle opere realizzate. Denuncia di accatastamento che ovviamente conterrà la famosa planimetria catastale di una casa, conforme a quanto realizzato. Purtroppo non è così. C'è chi pensa di ristrutturare senza progetto, c'è chi fa il progetto ma si dimentica dell'accatastamento. Tu devi fare molta attenzione. Tu, perché accertare, verificare questa triplice conformità non spetta il notaio, spetta a te. Perché è una questione di metodo. Ci vediamo dall'altra parte.